3 euro è vero ora vediamo la scala ora vediamo i mosti se vediamo prima c'è 3 cancone Marina che è lavorato andiamo a Brito 4 cancone vediamo andiamo andiamo 4 cancone sono e io sono qui ci sono 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 ora sono sono a allora ora metri 7 sono andiamo 4 poi Ora andiamo a di marito dolce. Culičica a di marito. Ora andiamo a di marito dolce. Solo non c'è. Solo un altro. Un altro. Un altro. Un altro. Un altro. Un altro. Una buona. e ora vediamo la marina Radula non è più non è più non è più il piccolo va a fare questo è tutto non è più chiedi ora, chiedi ecco, è questa la città vediamo lì, siamo trovati per la visione ok, grazie ecco ecco ok ecco 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 ora è ora Most ora guardiamo okolo okolo ecco c'è un nuovo sgormo non c'è un bambino non c'è un bambino non c'è un bambino ma anche il bambino e ora andiamo e ora andiamo andiamo per la mosta andiamo per la banca ora andiamo andiamo ora andiamo ora andiamo 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 Sì, è stato un'altra parte, tra i Dragano, e la cancella qui, siamo in Dragano Office, qui sono stati pronti, 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 ora stiamo in Novi Apartment Complex, qui è l'attacco di vedere grazie 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 evo more bonaca evo bonaca ka mlijeku evo vidi se dno vidi se barum ovde si o si o, si o si o si o si o. ok, doli è, uno è doli du coran, ok siamo du coran, una sottomessica preco preco, e poi preco diciamo, cali, pittaco da lì, vedete, sta doli qua no, ma ne vedete, la sorame se Lost ah, vedete questa poi buon cercupa, una ombeldon Vedi un po' di fara Ora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.